Non ci stanno alcuni abitanti che frequentano la parrocchia di San Michele di fronte alla notizia del trasferimento di Don Danilo a San Giovanni Valdarno e per questo hanno scritto una lettera aperta al vescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana. Don Danilo, si legge nella lettera, ha rivitalizzato una parrocchia che negli ultimi anni, complice la vecchiaia e poi la morte del caro Don Vasco Sottani, era praticamente inutilizzabile in quanto quasi sempre chiusa, nonostante l'incomiabile impegno di Don Pietro Bernini che per un periodo ha cercato di occuparsene. Molti dei nostri figli sono cresciuti a San Michele e rivedere dopo tanto tempo dei giovani frequentare la nostra chiesa regolarmente aperta è stata una vera soddisfazione. Don Danilo, si legge ancora nella lettera, in poco tempo ha polarizzato le attenzioni di tutti i parrocchiani, sempre disponibile e sorridente e pronto a qualunque iniziativa. Tanti turisti sono tornati a visitare San Michele e la piazza, grazie alla regolare apertura della chiesa, è tornata di impulso a vivere. Il modo di porsi di questo giovane parroco che ha ufficiato anche delle messe alle ore 21 ha rappresentato in poco tempo un vero fiore all'occhiello per tutta la parrocchia. Nella lettera si chiede spiegazioni sulle motivazioni di questo trasferimento. Siamo convinti che ci sia il margine per un solo ripensamento affinché Don Danilo resti dove è adesso e c'è a curare la nostra bellissima chiesa che finalmente è tornata ai fasti di un tempo, firmato un numeroso comitato di parrocchiani di San Michele.